Presentata nella splendida cornice della cascina di roccella ionica, la nuova collezione di gioielli della designer Barbara Ieraci. Una grande super partecipazione, gli ospiti hanno così potuto ammirare le sue grandi creazioni esposte come in un museo durante l'evento. Ma per incoronare il tutto, gli ospiti della serata, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, la coppia di uomini e donne, lei in attesa di un dolce pargoletto, frutto del loro amore, e non poteva mancare anche il cantante Echi, vincitore del format Altogether New 2020. Una sareta davvero magica, un po' come una favola. Stasera faremo una presentazione della mia nuova collezione, che sono dei gioielli che realizzo interamente a mano, artigianale, e niente, con ospiti della serata, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, il cantante Echi, il vincitore di Altogether Now, sul canale 5, il programma con Michel Unziker, e quindi faremo una serata di moda insieme a tutti gli brand e gli sponsor che hanno partecipato alla realizzazione di questo evento. Facciamo così a tutti, fatemi sentire. Grazie!